Economia reale, il nostro classico appuntamento del sabato con l'ordine dei dottori commercialisti e contabili di Nazione Inferiore, ben trovato a Dottore De Filippis per riaverla nei nostri studi e insomma le tocca sempre l'argomento basilare di questo periodo, la crisi economica. Andiamo su varie sfaccettature della crisi, cominciando direi dai giovani, la disoccupazione giovanile, ci sono stati alcuni distinguo negli ultimi giorni rispetto a tematiche relative all'occupazione e soprattutto alla disoccupazione che ahimè invece è sempre più in aumento. Ma alle manovre adottate dal governo e che hanno avuto vita nel corso del 2015, in realtà non sono state manovre tali che hanno consentito effettivamente un incremento dell'occupazione a livello giovanile, ma sono servite solamente a sistemare situazioni preesistenti, pregresse. Cioè voglio dire, se io lavoravo senza avere una posizione assicurativa, nel momento in cui il mio datore di lavoro ha avuto la possibilità di poter usufruire di un'agevolazione per tre anni, ha sistemato la mia posizione a costo zero, ma vera creazione di posti di lavoro non ce ne sono stati. Cioè non c'è nuova occupazione, ma c'è una pregressa occupazione che da una misura collaborativa è diventata definitiva. Ma diciamoci la verità, perché la misura, secondo il mio modesto parere, è sbagliata, perché nel momento in cui non ci sono commesse, io posso avere tutta l'agevolazione di questo mondo, ma non riesco ad assumere. Ed è purtroppo la diretta conseguenza di quello che sta succedendo. Parliamo di aziende, aziende impegnate anche finanziariamente, ecco il problema grosso da risolvere per queste aziende è sicuramente quello della liquidità. Ecco come si può far fronte a questo problema oggigiorno e soprattutto come si può affrontare il problema rispetto a una mancanza di liquidità, che è ormai il punto principale per le aziende come difficoltà. Ma diciamoci oggi si parla tanto di apisture delle banche attraverso anche quello che è stato il provvedimento di Draghi, però diciamoci sempre la verità con molta onestà, le banche finanziano solamente aziende solide e quindi non è che hanno praticamente dato la possibilità di aziende in difficoltà che però non hanno una consistenza patrimoniale di poter soffrire di finanziamenti. L'unica nota positiva è data dal recente accordo interbancario che consente a chi è debitore verso gli istituti di credito di mutui di poter praticamente differire il pagamento del mutuo avendo un ulteriore periodo di ammortamento di 3 o 4 anni a seconda che sia un debito chilografario oppure un debito ipotecario. La stessa cosa può utilizzarsi nei contratti di leasing. Per 12 mesi si può rimbossare solamente il canone relativo agli interessi e la quota capitale viene rimandata e posticipata successivamente di un altro anno se a lungo il periodo di leasing. Insomma piccole agevolazioni per le aziende però lei ha centrato il punto, se poi un'azienda in grande difficoltà difficilmente ottiene dei fidi per mandare avanti la sua azienda. Certo, diciamoci la verità, in Italia non si finanziano i progetti, si finanziano la consistenza patrimoniale ma se ho consistenza patrimoniale non necessitano di avere finanziamenti. Mi viene una domanda che forse c'entra poco o tanto a seconda delle visioni, in quel caso l'azienda è preferibile che fallisca per poi ripartire completamente da capo senza magari una parte debitoria oppure meno? No, perché se l'azienda fallisce noi creiamo altre problematiche, altre aziende che hanno dato fiducia a questa azienda che va a fallire, è un meccanismo molto complesso, anche sotto questo aspetto qua, diciamoci la verità, ci sono stati nuovi istituti. Il cane che si morde la coda perché poi ci sono le aziende creditrici che vanno in grande difficoltà. Ma il legislatore tra le altre cose ha potenziato alcuni istituti, quindi il concordato e via discorrendo, quindi la transazione fiscale, quindi diciamo che il legislatore sotto questo aspetto ha operato correttamente. Speriamo bene allora, andiamo alle famiglie perché già ne abbiamo parlato nelle scorse puntate però è giusto rimarcarlo ancora, c'è la possibilità anche se in breve tempo di mettersi in regola per chi purtroppo nel tempo non ha provveduto a pagare quanto dovuto in questo caso a Equitalia o comunque all'agenzia dell'entrata. Sì, diciamo che per i debiti verso l'agenzia fiscale chi non ha provveduto quindi può ratezzare il proprio debito e può arrivare fino ad un ratezzo di 120 rate, quindi a 10 anni a condizioni che ci siano le premesse. Ma in ogni caso fino a 72 rate è possibile poter ratezzare. Adesso ci sta una possibilità che per chi è decaduta da una precedente rateizzazione quindi al 31 dicembre 2014 può entrare in bonus un'altra volta, però l'unica condizione è che poi non può più andare oltre a due rate imbacate perché nel momento in cui poi va oltre a due rate imbacate decade dalla nuova rateizzazione. Diciamo che il provvedimento è in vigore fino al 31 luglio 2015. Ultima domanda sul prestito vitalizio. Ne abbiamo anche qui accennato qualche volta, se ne è parlato in passato. Oggi ci sono delle novità interessanti. Sì, oggi ci sono delle novità interessanti perché il prestito vitalizio interessa le persone anziane, chi però hanno un immobile residenziale. Questi soggetti, la norma prima prevedeva un limite minimo di 65 anni, oggi è sceso a 60 anni. Chi ha praticamente un immobile di natura residenziale può usufruire di un finanziamento fino al 15% del valore dell'immobile. Al decesso del soggetto che usufruisce di questo prestito agevolato, diciamo che praticamente provvederà le rete e quindi a distinguere quello che è la sosta capitale più gli interessi. Nel momento in cui le rete, entro 12 mesi dal decesso del debitore, non provvede, autonomamente la banca provvederà a vendere l'immobile e quindi recuperare quanti dovuti e versare per la differenza agli eredi di quello che è il saldo contabile dell'operazione. E mi sembra una cosa interessante. Sì, però voglio dire ancora un'altra cosa. Quindi noi abbiamo detto che per i soggetti oltre i 60 anni, quindi da 60 e un giorno in poi, dal 15 maggio prossimo, quindi è in vigore questa nuova agevolazione. Per i soggetti che hanno 90 anni, perché diciamoci la verità, la percentuale di vita si riduce, il prestito praticamente può arrivare fino al 50-55% del valore dell'immobile. E ora dottore De Filippi, se non possiamo non chiudere con una domanda. Pessimista o ottimista rispetto a tutte queste misure? Ottimista per natura, ma bisogna essere per forza ottimista in quanto noi, anche un po' adulti, abbiamo dei figli che dobbiamo ormai vedere praticamente realizzati. Ma voglio aggiungere ancora un'altra cosa. I giovani devono darci una scossa. Se si danno una scossa avranno un futuro sereno come l'abbiamo avuto noi per stanti anni. Grazie al dottore De Filippis e grazie all'ordine dei dottori commercialisti. Ci rivediamo sabato per Economia Reale. Grazie a lei. Grazie a lei. Grazie a tutti.